Il Master in Tecnologie Emergenti continua la strada intrapresa con lo Spazio Informe, un Master che abbiamo iniziato ormai quasi dieci anni fa e che abbiamo deciso di trasformare, di attualizzare, concentrandoci su quelle che ci sembrano emerse come tecnologie prevalenti per la progettazione architettonica oggi. Dunque l'idea è quella di mettere in grado dei giovani architetti di controllare un flusso di lavoro complesso che passa dal reale al virtuale per ritornare al reale, senza perdere di vista ovviamente degli obiettivi costruttivi, realizzativi, concreti, ma spingendo anche l'acceleratore su proprio le nuove modalità di generazione della forma. Dunque l'obiettivo del Master è utilizzare un progetto come momento di sintesi per far lavorare insieme tutti questi software, per passare appunto dalla lettura del luogo allo sviluppo della strategia progettuale, alla verifica di questa strategia attraverso dei momenti anche di fabbricazione di un modello costruttivo, virtuale e reale, fin poi all'elaborazione di una strategia di comunicazione del progetto, un progetto che verrà comunicato attraverso immagini, attraverso un video, attraverso la costruzione di una piattaforma web. Abbiamo una serie di moduli che insegnano tutti i vari strumenti utili per elaborare un progetto e per comunicarlo nel modo migliore, quindi dalla elaborazione delle immagini bidimensionali alla modellazione solida, la modellazione parametrica, la modellazione costruttiva e ancora tutto ciò che ha a che fare con il web e la comunicazione attraverso il video del progetto. Si tratta quindi di gestire, di imparare a gestire un flusso di lavoro veramente complesso che richiede ormai la conoscenza di strumenti molto diversi. In questo senso, oltre al pacchetto di lezioni di base con i vari moduli didattici, avremo anche tre ulteriori laboratori che penso saranno un momento di didattica e di sperimentazione molto importante. Avremo un laboratorio sul tema del rapporto tra design generativo e i sistemi materiali, quindi un laboratorio in cui si procederà attraverso la costruzione di modelli fisici con vari materiali e si cercherà di capire, di mettere in rapporto questi modelli materiali con i modelli virtuali, digitali. Avremo poi un laboratorio sul tema delle biomorfologie che si concentrerà in particolare su uno strumento come Maya e infine avremo un laboratorio di progettazione e autocostruzione.